Allora adesso direi parliamo di cibo, c'è una cosa che è emersa molte volte dai vostri interventi, è del pane, del resto il pane assieme al vino è uno degli elementi più tipici della nostra tavola, però molti di noi probabilmente sono abituati quando il pane diventa vecchio a buttarlo nel rifiuto organico, qualcuno nel compost, qualcuno lo dà alle galline, invece tu prima dicevi io da giovane ne mangiavamo a tonnellate, allora cosa possiamo fare del pane per riutilizzarlo? Intanto il pane è il primo alimento che si mette a tavola, voi quando preparate il tavolo per mangiare, la prima cosa che mettete sul tavolo è il pane, l'acqua e il vino, quindi il pane in assoluto è il primo alimento dell'uomo, ma questo anche nelle religioni è tutto, Gesù benedice il pane e il vino, non è che benedice il petrolio, allora il pane, le boutique del pane, beh quanto buon gira il pane che si faceva incontrare una volta tutti insieme, il ciopon, con i corni che restava buoni tutta la settimana, perché se faceva il pane una volta a settimana incontrava tutti insieme e dopo si spartiva, una volta portava farina a una famiglia, una volta portava anche altra, che c'era amare sempre nel cassetto, che serviva per la settimana dopo, no, e adesso strutti, grassi, grassi vegetali solidi, margarine insomma, ma strutti soprattutto, chiaramente farine costruite chimicamente per la lievitazione e che più ne ha più ne metta, panni conditi in tutti i modi, con lati in polvere, con tutto e di più. Anche qua, il pane è una cosa sacra, una cosa benedetta, quindi quando io vado a comprare il pane, compro del pane comune, non compro del pane al latte, del pane condito, compro del pane comune. Lo do da mangiare ai miei bambini il mattino alla prima colazione con la marmellata, non gli do la brioche o le merendine delle multinazionali, gli do il pane, gli faccio bere il latte, gli do il pane con la marmellata. Se posso, per la merenda a scuola, gli do ancora un pezzettino di pane e gli do magari anche un frutto. Quando viene a casa a mezzogiorno o a giù, quando arriva, comunque un pezzetto di pane gli faccio trovare. Se poi a metà pomeriggio vuole fare una merenda, eccetera, magari non gli do il pane, ma non gli do neanche dei poci, delle cose dolci, terrificanti, gli faccio mangiare della frutta. E la sera chiaramente cerco in tutte le maniere che si nutra in maniera molto leggera, in modo che possa dormire bene la notte. e gli faccio fare molto movimento. Avanza il pane, perché ne ho preso di più, lo avanza. Allora la prima cosa da fare è non tenerlo in un sacchetto di plastica, ma in un sacchetto di carta, in un posto asciutto, in modo che non possa fare muffe. In un sacchetto di carta diventa secco, non fare muffa. Se è in un posto asciutto, rimane perfetto. Una volta che già la taglia il pane, e la mattina, o alla sera, si mangiano la caffeate. Tutti. Tositi e donne soprattutto. Allora, puoi vedere il pane gratà? Il pane, quando che le vece è secco, si puoi gratarlo e fare il pane gratà. E col pane gratà, così, si impanna a tutto bene. Dalle fettine di carne, alle fettine di verdura, a qualsiasi cosa. Oltre, oltre a fare passatelli in brodo, oltre a fare panà, che nessuno più fa. con il pane gratà. Oltre, oltre a fare torte, mi stasera ho fatto una puttana, con il pane beccio. Eh? Non c'è poca, però non c'è mia per tutti. oltre a fare gnocchi del pane, come è del... Eh? E fare un milione di altre cose, dei pasticci di verdure, all'interno del pane che lega, che tiene insieme le verdure. se ne attendiamo al sud, al posto del formaggio grattugiato sulla pasta, si usa quasi sempre del pane tostato, grattugiato e tostato, e l'olio d'oliva. Quindi con il pane si può fare veramente tutto, compreso quello se avanza del pane intero, di lasciarlo magari per tutta la notte in un forno che è stato preriscaldato a 50-60 gradi e poi spento, lasciato lì tutta la notte, lo biscottiamo, non biscottiamo e non vi dico quanto buono è dentro una minestra di verdure o così invece dei crostini, comprare al supermercato tutti i tagli accompagni e fatti con chissà cosa. Questa è la nostra cultura del pane. Io mi ricordo, sapete, mia mamma aveva una cesta di bibini, una cesta di bibini, tacca su, su un gancio, sul trave, col pan veggio. Il pane si tagliava la mattina e la sera. Il mio padre a sera mangiava la minestra, mangiava sempre pronto a sera, minestra comunque con dentro il pane tagliato. e la mamma mangiava la caffèate e gli altri tositi e la mattina mangiava la caffèate. Il mio Giotton invece metteva il pane nel caffè nero di orro e dopo che vogliava dentro un moto di vino. Allora, sempre sta bene. Morto, veggio, ma veggio, veggio, se c'è in dormenza, morto. Eh, ecco, quindi il pane, il pane, se vogliamo, eh, se vogliamo, perché dopo, sapete cosa che mi succede a me tante volte, tante gente, no? Mi dice, ah, ma siamo sempre tutti da corsa, c'è tutta una corsa, e mi tocca andare a lavorare, e dopo vengo a casa, e poi ho detto a portare il catechismo, e dopo vado a portarlo al ruoto, e dopo vado a farla mangiare, e dopo vado a lavare i piatti, e dopo vado a fare la sacchetta per i tuoi mattina, e non ho tempo e fa niente. No. Allora, io sono assolutamente d'accordo, che viviamo in un tempo dove siamo tutti da corsa, non si sa perché, ma siamo tutti da corsa. Però, mi, eh, credo, eh, credo, ad esempio la colazione del mattino, parlando di pane, la colazione del mattino è un momento fondamentale per l'inizio della giornata di qualsiasi persona. Nel senso che se uno si sveglia all'ultimo momento, no? Madonna, che tardi che sei. Un'ora via del corsa senza neanche respirare, eh? Sicuramente che avrà una giornata tutta così. Ma se uno la sera, prima di andare in letto, no? Parlando su, un tocco di tolla, due tovagliette, delle carte, con un vasetto, con dentro, adesso, due margarite del campo, due, un panno, qualsiasi roba che hai in orto o che hai davanti a casa. Eh, con l'acqua, logicamente perché sono la mattina, eh, no? E pareccia, eh, già pronte le tasse così, e un cestino di pane con la marmeata che magari, quando che se tante brombe, o tante bicocche, o tante chiarese, si fa. No, ma senza doperare tutte, eh, peccine e frutta gel e tutta sta roba qua, no? Usa i pumi, mette che dentro i pumi, se è marmeata non liga, perché ha se dei frago e non li liga, ha se dei kiwi e non li liga, eccetera. Mettete che dentro i pumi, ha se peccine, la salverà un pochettino da pomo, oltre che da frago e, no? Ma se io ho il latte, ha se buono, eh, e ha fatto bene. E ai tuzetti, potremmo dargliela, perché in quei marmeati, oltretutto, si mette dentro il 50% del succo, e anche a manco. Eh, quindi, il problema nasce tutto da noi, fra virgolette, perché è più facile mettere lì un busotto di Nutella e una merendina, no? E il Nesquik, collate, messo al microonde. Sì, è evidente che se è più facile, però non che fa bene, che roba che tu zetti. E dopo, che cultura sì che che trasmettiamo? Allora, mi vi prego, proprio vi prego, col cuore in mano, di trovare il tempo, e se tratta, se io, del 5-10 minuti, non se tratta mia, del mezzo e ora, del 5-10 minuti, per trovare il tempo di iniziare la giornata in maniera più tranquilla, svegliandosi 10 minuti prima, andando in letto 10 minuti prima. Se se è possibile. Ecco. Quindi, la prima colazione e il pane, il pane, nella prima colazione, voi potete parlare, guardate, con qualsiasi nutrizionista. Tutti quanti vi diranno che un pezzetto di pane, il mattino, con la marmellata, non può che essere un tocca sana. Perché abbiamo davanti tutto il tempo nell'arco della giornata e abbiamo dentro, dietro, tutto il tempo della notte in cui abbiamo dormito, forse, per consumare quello che immettiamo nel nostro corpo. E ricordatevi, il pane è una cosa sacra. Una volta, quando cadeva un pezzetto di pane per terra, si tirava su e si chiedava un vasetto. E dopo si ormaiava. Quindi, questa è una roba da non dimenticare. Lo dico a tutti. A chi lo sa e a chi non lo sa. Il pane è una cosa sacra. Perché è la prima cosa che veste la tavola. Dopo, quando chi viene a mangiare al ristorante e ti metti il panno e ha fame, ti tocca cambiare tre volte prima che ti taglia a mangiare. No, però, meglio chi mangiare il panno piuttosto che altre cose. E comunque, il pane, se qualcuno ha la possibilità di avere un forno a legna, di avere qualcosa in casa, se potete, fatevelo. È una benedizione diversa. È un iniziare diverso il pasto. A qualsiasi ora, ripeto, soprattutto il mattino. Posso finire qua? Grazie.